Daniele Precetti, una bella iniziativa che si è svolta questa sera qui alla Pala di Angelis, anche un modo per salutare il pubblico dopo una stagione davvero molto positiva, coronata con una promozione in serie A2. Sì, una bella iniziativa già fatta in passato e collaudata, bella per tutti. La partita non è stata mai in discussione, ti aspettavi qualcosina in più da parte dell'americana? Sì, probabilmente sì, però questa non è un college, è una selezione, sono ragazze di varie università, quindi probabilmente non hanno giocato molto insieme. Noi siamo stati bravi, abbiamo fatto una discreta partita di fine stagione. Adesso rompete le righe in vista della prossima stagione? Noi abbiamo ancora un impegno semi-ufficiale, il 14, e poi sì, rompiamo le righe. Cosa si farà in vista della prossima stagione? C'è da lavorare sulla squadra, da prendere qualche nuova giocatrice? Ma sì, sì, come al solito, insomma, aspettiamo innanzitutto la conferma della categoria e poi dovremo sicuramente vedere in base anche alla disponibilità della società. Vediamo. E lì c'è una bella iniziativa quest'oggi, aver incontrato questa squadra americana, forse vi aspettavate qualcosina in più, almeno noi ce l'aspettavamo forse. No, le ragazze erano molto giovani, ci aspettavamo forse un po' più di esperienza, poi diciamo le americane sono sempre molto, nell'immaginario di tutti, sono un po' fortissime, invece oggi abbiamo detto la nostra, insomma. È andata bene, è anche il modo migliore per salutare il pubblico al termine di una stagione molto positiva, possiamo dire? Sì, sì, una stagione fantastica, bellissima. Adesso una pausa? Una pausa, in realtà con il nostro coach le pause non sono proprio concesse, corriamo sempre, adesso il 14 ci sarà un altro evento, la partita a Montalto con Alice, come sappiamo Miss Italia, la nostra ex compagna di squadra, anzi, ancora la nostra compagna di squadra. E poi aspettiamo, insomma, di sapere cosa farà la società e speriamo nell'A2. Speriamo nell'A2, ci sarà bisogno di qualche ritocco, secondo te, per questa squadra o ce la volete un po' fare, diciamo così? Sicuramente un aiutino non fa mai male.